Promuovere l'applicazione delle modalità più idonee ed efficaci agli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e senso percettive, ma anche promuovere una cultura dell'accessibilità e della progettazione ampliata delle opere pubbliche. Sono questi i capisaldi del protocollo d'intesa firmato tra la provincia di Monza e Brianza e l'Associazione Disabili Visivi, diretta a potenziare lo sviluppo della cultura tecnico-progettuale in tema di accessibilità e della cosiddetta progettazione universale, centrata cioè sulla persona e che rende completamente fruibili sicuri edifici, attrezzature e spazi esterni anche da parte di persone con limitata o impedita capacità motoria o sensoriale, specialmente in caso di emergenze. È un unico in Italia, è la prima volta che accade. Ringrazio l'architetto Batacchi che porta avanti per la provincia tutta la tematica PNRR che ha deciso appunto di collaborare con queste associazioni di persone con problemi visivi. Di fatto cambia un po' il paradosso. Noi abbiamo sempre parlato di abbattimento barriere architettonico. In realtà, in fase di progettazione di nuove opere, e questo è il compito del PNRR, quindi noi ragioniamo ad esempio sulle scuole La Milani, sulla scuola di Agrate, su altre opere che faremo, non bisogna più ragionare abbattimento barriere architettoniche, ma di fare già delle opere accessibili, quindi senza impedimenti. E questo protocollo mette appunto in collaborazione quelle che sono le conoscenze di questa associazione in tema appunto di disabilità visiva e dandoci appunto un appoggio con anche materiale importante per quanto riguarda appunto poi il supporto alla progettazione di questi nuovi spazi importanti. Secondo me è molto importante, è un qualcosa che dovrebbe essere replicato anche per quanto riguarda comuni o altre province. Non dobbiamo uscire con nuove opere che abbiano ancora barriere architettoniche da battere, perché sarebbe un paradosso.